Sì, d'accordo, ciao Graziano, buona passeggiata, allora andiamo benissimo, è ottimo, si è un po' aumentato, la segnala è sul 9, ma comunque lo vede, e non ho capito con cosa stai pilotando, e se hanno imparato, non era, non ho capito l'amplificatore, è una G7B, non ci conosco, non ho mai lato, ma conosco, lei ha usato una G39B, che è, che somiglia alla GS31, un po' più grande, a un radiatore un pochino più grande, però più o meno sono attivamente, altrimenti anche lei, per VHS, UHS, e dunque adesso, tanto per darti un raguaglio, sto andando, sto permettendo con un apparato piccolino, fatto da 2,6 AQ5, un oscillatore, un duplicatore, e una 6146 finale, e questa affare qua pilota l'amplificatore, che è pilotato da una G43B, sempre varie della Russia, la potenza, dunque il driver, a circa un 10-15 W, è modulato ad alto livello, di placca e driglia, da un controfase di L34, è un modulatore esterno, che uso anche come amplificatore stereo, per ascoltare i dischi, e per l'occasione l'ho adattato, ci sta modulando anche, questo tradicolo qua, che ha circa 15 W, che poi amplificati diventano, fa incontro a circa 200, ecco, importante, modulati però al 100%. Ho capito dall'SK010, cos'è quello con la P1 parra 100, se non ricordo bene, può essere un lato di griglia, controllo, se non vado a rata, mi confermerai che sono due moduli, un sopra e un sopra, lì sotto l'alimentatore, sopra il trasmettitore, non so se due o tre, forse ha il 2S0, l'alimentatore, il 2S0 è il finale, però non l'ho visto, eh, se è quello che penso io, proprio di maggio. Ma non credo che stai usando quello, mi pare del capitolo che stai pilotando con un apparato moderno, dell'Amply con il 2G7B, mi confermerai se è così a treni o K.